Siamo allo sport, sta per iniziare la nuova stagione calcistica e sappiamo che il Lecce giocherà in prima divisione, ancora incredoli e un po' arrabbiati i tifosi salentini. Vediamo il servizio di Raffaele Gorgoni. E' un'ingiustizia, sapete, a noi non ha un metodo, è laurico dell'altro. Ma, è un'ingiustizia, ragazzo, però sentono le partite, come è un'ingiustizia? L'Urbari si è venduta tutte le partite, è ancora in serie B, qui in quarta serie ha buttato su L'Urbari. E' andata come è andata, la giustizia sappiamo come funziona, no? Un Lecce lo tieni tra il cuore o non lo tieni in filo? Tegno non ti dici, non tu dici, io non lo faccio perché ti devi cadere in due della partita, è giusto? Lecce oggi secondata da Palazzi, più che mai. Lecce gentile, bella o più cuccanto Capitombolati in B per insipienza calcistica, si finì in Lega Pro per furbizia e incapacità nella furbizia, che è quasi peggio. Che poi Lega Pro è un eufemismo per dire serie C, un disastro ampiamente annunciato che i giornali raccontano con pudore, dando spazio a roboanti difese, alle quali non è solo la purmite e solitamente dolce giustizia sportiva a non credere, ma intanto si spera. Però chissà, magari ci ripescano, anche noi, insomma, non è detto l'ultima parola, c'è ancora l'ultimo grado di giudizio. E infatti non è forse questa la terra del ricorso? Ricorso appunto, non rimorso. Ricorso appunto, non rimorso.